Riprendo la mia attività di routine al gruppo e nel frattempo si affaccia alla finestra un'altra cosa, l'esigenza del rifornimento in volo. L'Avax è dotato di un sistema di rifornimento in volo che è dietro al cockpit, questo è l'aeroplano, a questa altezza qui si apre una finestrella e c'è l'attacco per il probe dei velivoli cisterna per rifornire l'aeroplano. E quindi l'autonomia di un Boeing che è intorno alle 9-10 ore, a seconda di come si svolge il volo, poteva essere tranquillamente allungata di 3, 4, 5 ore attraverso il rifornimento in volo. Quindi c'è questa nuova attività che si affaccia, la maggior parte degli istruttori, specialmente gli americani, erano già abituati al rifornimento in volo, per cui loro fanno da ponte con tutti gli altri piloti e si comincia questa attività di rifornimento in volo. E si comincia. E si comincia quasi sempre utilizzando come velivolo rifornitore il KC-135, che non è altro che un altro Boeing 707 versione cisterna. normalmente ci sono due modi per rifornire da aeroplano a aeroplano. Si usa o il basket, avete visto in qualche filmato, quel cestello che si muove e che esce dal velivolo rifornitore, c'è questo tubo, questo tubo finisce con un cestello, nel cestello il velivolo che si deve rifornire quasi sempre un caccia, ma alcuni aeroplani grossi, come per esempio il velivolo early warning francese, cioè il probe, lui, anziché avere questa finestrella sulla capoccia, c'è un'estensione da una parte, un tubo in pratica, e anche lui come i velivoli da caccia si va a rifornire entrando nel cestello. Quindi c'è questo cestello, che non è altro che una finestra con delle, diciamo, elettromacalamite, il tubo va dentro, il cestello, la parte interna del cestello si chiude intorno alla protuberanza di questo tubo, crea un contatto deciso e soprattutto non si perde carburante, non si perde carburante, e c'è il travaso di carburante da un velivolo all'altro. Altro del sistema invece è, come quello del KC-135, che c'è sia l'uno che l'altro, dalla coda dell'aeroplano qui c'è un probe lungo 9 metri, 9 metri con capacità di estensione, di rientrare circa 3 metri. Quindi questo tubo va da 6 metri a 9 metri. Quindi l'aeroplano che si deve rifornire, supponiamo che non è più questo, l'Avox, ma il KC-135, deve arrivare qua sotto, proprio sotto, perché la finestra è dietro la capoccia, il pilota è qua sotto. Cioè l'aeroplano, l'aerorifornitore, ce l'ha sulla capoccia, ce l'ha lì. Se avesse la possibilità di aprire il finestrino, allungando la mano potrebbe quasi toccare. È una situazione impressionante. Io in tutte le attività di volo che ho fatto, e ne ho fatte diverse, per fortuna, devo tranquillamente dire che quella del rifornimento in volo è una delle attività più difficili. Ma per quale motivo? Proprio perché sei più stretto con un altro aeroplano di una formazione. La panna, i velivoli della panna, sono più larghi rispetto a quando c'è il contatto tra velivolo rifornitore e velivolo che deve ciucciare il carburante. Siamo in una situazione micidiale, siamo in contatto, ho detto, se uno potesse uscire dal finestrino, qua si toccherebbe, in effetti questa prob che esce e entra dentro l'aeroplano. Quando entra dentro si sente un rumore tonfo, si sente clap, che i magneti, le aperture di questa valvola si stringe intorno al tubo per creare continuità di flusso carburante. Non solo, ma la difficoltà da dove viene? Viene da altri fattori. Il primo fattore è che tu sei seduto non nella tua posizione normale. Normalmente un pilota di un aeroplano di questo genere è in una posizione alta, come sto seduto io in questo momento. C'è il volantino qui, le manette stanno qui se sono seduto a destra o viceversa. Quindi già questa è una difficoltà. Manoimparare a manovrare un aeroplano facendo immersione di mano, perché potevo essere seduto a sinistra come potevo essere seduto a destra. Non è la stessa cosa. Normalmente i piloti dopo un po' hanno la cosiddetta mano specializzata, perché stanno sempre con la mano destra sulla cloche e la mano sinistra sulla manetta. Invece un pilota di un velivolo di questo tipo qua, che può stare seduto a sinistra o a destra, deve saper fare le stesse cose o seduto a destra o a sinistra. Quindi o voli così o voli così. Non solo, ma normalmente un pilota è seduto in modo da avere il cruscotto davanti, ma a lui interessa anche e soprattutto durante le fasi di atterraggio vedere la pista oltre il cruscotto. E quindi è seduto mediamente alto. Per far rifornimento in volo bisogna cambiare posizione. Perché? Perché il nostro obiettivo non è più la pista che sta più basso del muso dell'aeroplano, ma è l'aerorifornitore che sta più alto di noi. Quindi se io fossi seduto così, in posizione alta, quasi non lo vedrei l'aeroplano. Quindi quando si va al rifornimento, si abbassa il sedile e lo si porta leggermente indietro. Quindi uno passa da questa posizione a questa posizione. Bassa, volantino, manette sono più alte del solito e guardare verso l'alto. Cosa si guarda? Si guardano dei riferimenti sull'aeroplano, ma soprattutto si guardano delle luci che si accendono sotto la pancia dell'aerorifornitore. Il sistema luci del KC-135, solite luci bianche, rosse, verdi, per stare a indicare, verde tutto va bene. Bianco te stai spostando, rosso sei in una posizione critica, solita e standard per presentarti le luci. E quindi tu in funzione di come vedi l'aeroplano che è sopra di te, le due estremità all'aria, perché butti gli occhi dappertutto, e delle luci, tu lavori. E fosse solo questa. C'è un altro problema. Intorno ad un aeroplano c'è il flusso d'aria. Questo flusso d'aria pone una resistenza. Se tu arrivi a ridosso di un altro aeroplano, con la sua stessa velocità, non riesci a rompere questo muro. Rimbalzi. Quasi torni indietro. Quindi se quello si sta a spostare, il riferimento si fa intorno ai 299, mi ricordo, più o meno. Questa è una velocità. Se tu arrivi con la stessa, c'è tutto un procedurale. Tu arrivi, ti dicono, ok, il tanker vi aspetta in questo posto e sta a 25.000 piedi. Tu vai incontro al tanker, quando lo vedi ti ci metti in coda e ti fermi mille piedi sotto. Quindi la situazione che si vede è questa qui. Tanker che vola dritto, tu arrivi mille piedi sotto e ti fermi approssimativamente a mille piedi dal tanker. C'è già il contatto radio, siete in comunicazione. Quando arrivi in quella posizione, tu chiedi l'autorizzazione al contact. Quindi parli con il rifornitore e dici, chi sei? Autorizzato, richiedo il contact. E quello dice, ok, autorizzato al contact. Significa che io mi faccio gli ultimi mille piedi in salita. Quindi io vado al rifornimento salendo e avvicinandomi. Se io arrivo qui e ho la stessa velocità del tanker, non farò mai rifornimento. Il flusso d'aria intorno all'aeroplano rifornitore mi impedisce di andare a contatto. Quindi bisogna anche avere quei due, tre nodi in più per rompere il muro e penetrare. E' proprio in quella frazione di secondo che devi fare l'ultimo aggiustamento. Penetri e riduci un attimo il motore, ma appena appena devi toccare le manette e senti sto tubo che ti si inserisce dentro. Quando il contatto è bello, definitivo, c'è l'autorizzazione. Le pompe ti scaricano, cominciano a scaricare 8000 libri al minuto inizialmente, poi man mano che aumenta il flusso, il carburante diminuisce la portata. Insomma, la missione di rifornimento per caricare 30.000 libri di carburante, minimo, altrimenti è inutile. Ci vogliono non meno di 20 minuti. Solo di contatto. E quindi tu per 20 minuti sei legato a quell'aeroplano. Ogni movimento che fa quell'aeroplano lo devi fare pure tu. E non è che va sempre dritto. Si mette a girare l'aerorifornitore, perché non può andare dove gli pare. C'ha un'aria in cui deve volare. Quindi entra in virata e tu ti devi accorgere il momento che comincia la virata e devi virare con lui. Quindi sono qui 20 minuti, anche 30, se hai bisogno di più carburante, in cui io letteralmente ti posso dire che sudi le sette camicie. Perché sei lì attaccato a a questo aeroplano, a questo coso grosso che sta sopra di te, a cui sei legato, non c'è spazio. Sopra di te c'è tutta la coda dell'aeroplano. E tu sei lì a contatto. Non è... e devi resistere qui. Non puoi fare il cambio al secondo pilota, al co-pilot, al first pilot, a quell'altro. Oh, pigliano tu che mi sono stancato. No, perché significherebbe sganciarsi. A bordo dell'aeroplano rifornitore, dietro, c'è l'operatore al boom. C'è un individuo che sta sdraiato per terra, c'è la finestra davanti che ti guarda negli occhi e ti vede proprio fisicamente perché tu stai lì. Ecco, io sto qui e quello sta lì. Il boom sta collegato tra la mia capoccia e la tua macchina fotografica e quello sta lì. E ti vede. E lui ha la possibilità di manovrare un po' il boom. Perché il boom si può spostare in una finestra che diciamo che è di circa tre metri d'altezza e tre metri a destra e a sinistra. È un rettangolo. Lui ha la possibilità di manovrare un joystick che può manovrare il boom. Quindi se tu vai leggermente a sinistra, lui riesce a seguirti. Se vai poco, lui fa presto. Puglietti sgancia. C'è poco da fare. Lui come si vede che tu arrivi ai limiti di quel triangolo ipotetico, lui ci avrà pure qualcosa che glielo segnala. Lui prende sgancia, dice staccati e tu devi ricominciare tutto da capo. Non si fanno scrupoli. E finisce un mese, un mese e mezzo perché poi attorno si va in volo. E si fa questa attività quando i fornitori sono disponibili. E nel giro di un mese, un mese e mezzo, diventa pure air fueling qualified, come dicono in gergo. E quindi mettiamo in tasca quest'altra qualifica. Grazie. 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 Grazie.